Uomini e donne, una coppia del Trono Classico si separa dopo una settimana, l'annuncio su IG. Uomini e donne, Angela ed Alessio separati dopo la scelta. Angela Nasti ed Alessio Campoli sono diventati ufficialmente una coppia da una settimana. I due ragazzi, infatti, per la gioia dei fan si sono scelti al Trono Classico di Uomini e Donne. A distanza di sette giorni, però, l'ex tronista e il suo nuovo fidanzato si sono separati. Ovviamente non si sono divisi perché tra loro c'è una crisi, ma semplicemente sono tornati a vivere la loro quotidianità. Ricordiamo, infatti, che la giovane vive e lavora a Napoli, mentre lui è di Roma. Quindi, dopo alcuni giorni insieme per il momento vivranno la loro relazione a distanza. La decisione della Nasti, però, ha indispettito non poco i numerosi fan della neocoppia. La diretta interessata, inoltre, attraverso i social ha annunciato che presto partirà per una vacanza. La farà con amiche, famiglia oppure con Alessio?. Angela Nasti in vacanza con la famiglia. . A quanto pare la prima opzione. . Angela Nasti trascorrerà qualche giorno di vacanza senza la compagnia di Alessio Campoli. . Attraverso delle stories su Instagram, l'ex tronista di Uomini e Donne ha confessato che partirà con la sua famiglia. . In questi quattro mesi al trono classico l'hanno tenuta lontana dalle persone care, quindi ora vuole congedarsi un po' di tempo con loro. Almeno fino ad ora i piani della Nasti sono questi, ma non è detto che Alessio si aggiunga al gruppo e partire tutti insieme. . Giulia Cavaglia e Manuel Galliano inseparabili. . E se Angela Nasti ed Alessio Campoli per il momento si sono separati, un'altra coppia nata al trono classico di Uomini e Donne sembra inseparabile. . Stiamo parlando di quella composta da Giulia Cavaglia e Manuel Galliano. . I due ragazzi, intervistati dalla TV web di Maria De Filippi Vitti, hanno rivelato che presto faranno una fuga romantica. . Inoltre, da quando è finito il dating show di Canale 5 l'ex tronista e l'ex corteggiatore non si sono mai lasciati. . Stando a quanto scritto sui loro rispettivi profili Instagram, Giulia e Manuel potrebbero presto andare a convivere. .